In questa operazione avete risolto il caso del duplice omicidio, come e chi è stato appunto preso? Un'operazione importante dei grebinieri di Frascali, del numero investigativo, che ha consentito stamattina di assicurare la giustizia all'autore di un gravissimo patto di sangue. Si tratta di un uomo trentenne che ha prima ucciso a colpi di ascia due persone e poi ha dato loro fuoco. E' stata un'indagine durante 5 mesi, molto complessa e ha consentito di ottenere questo positivo risultato che serve anche per portare tranquillità nell'area interessata che pone di Artena e di Colleferro. Perché ha ucciso? Il rumeno era stato già allontanato dal territorio nazionale e era rientrato presso quella zona cercando di ottenere un lavoro che il titolare gli aveva negato e da qualche giorno continuava a rubare all'interno di quell'azienda. Era stato poi sorpreso da parte del proprietario e in quell'occasione c'è stato un confronto, una colluttazione e il rumeno aveva prima attaccato con un asce e poi ha dato fuoco, uccidendo anche l'amico per stare insieme al proprietario della flagnaveria. Grazie.